Erano da poco passate le 23 di sabato 27 luglio quando tre uomini armati di mazza e picconi hanno assaltato una sala slot all'altezza del parco commerciale Remanzaco lungo la strada statale 54 nell'Interland orientale udinese. Il terzetto con il volto travisato ha minacciato una giovane addetta allo sportello e si sono fatti consegnare il registratore di cassa e una cassetta di sicurezza ma non sono riusciti a sradicare dal muro la cassaforte che conteneva gran parte dell'incasso di giornata. La refurtiva ammonta circa 1500 euro in contanti. Indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine. Sotto osservazione le immagini registrate dalla videosorveglianza durante l'assalto dei tre malviventi utili a risalire alla loro identità.